Una bella notizia arriva dal reparto Covid dell'ospedale di Agropoli. È stata dimessa perché negativa al tampone molecolare suoragnese classe 1933. La donna era stata ricoverata nel reparto di malattie infettive diretto dal dottor Gielmi lo scorso 7 giugno e poi a causa del peggioramento delle condizioni respiratorie trasferita nel reparto di subintensiva diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona. Dopo un mese è arrivata la bella notizia della guarigione dal Covid-19. Il tampone di suoragnese, come per suornatali, è stato inviato dal laboratorio analisi dell'ospedale diretto dal dottor Marcello Ametrano per il sequenziamento presso l'istituto zoo profilattico di Portici confermando la variante P1621 colombiana, ma nonostante ciò e diverse patologie pregresse, seoragnese ce l'ha fatta ritornare a casa, una bella notizia per il comune di Laurino che attendeva da tempo la notizia della guarigione della suora, ora si attendono solo le dimissioni dal reparto speciale di un altro cittadino residente e per Laurino l'incubo è finito. Soragnese ringrazia tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che in questi lunghi 30 giorni le sono stati accanto senza lasciarla mai sola.